L'ultima novità di Mesa Boogie si nasconde dentro un box di metallo lungo appena 30 cm e del peso di meno di 6 kg. È la nuova Mini Rectifier 25. Se l'amplificatore si dimostra piccolo nelle dimensioni, non lo è nelle prestazioni. Il finale da 25 Watt è stato studiato da Randall Smith in persona per mantenere il famoso suono recto. La sezione di preamp prevede due canali con controlli completamente indipendenti. Per ogni canale sono disponibili due tipologie di gain e due valori di potenza selezionabili tra 25 e 10 Watt. Il loop effetti seriale è completamente valvolare. Il foot switch di controllo è incluso. A presto! 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 A presto!